20 milioni di euro da qui al 2022 destinate ai comuni della Toscana con meno di 5.000 abitanti per finanziare nuove opere e realizzare lavori nell'arco di tre anni. La misura, inserita nell'ultima legge di bilancio regionale, è stata illustrata dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e dall'assessore al bilancio Vittorio Buglia, i sindaci e agli amministratori potenziali beneficiari del provvedimento. Potranno essere sistemate scuole, centri sociali, edifici pubblici e poi a partire dall'anno prossimo anche le strade che già avevamo quest'anno sovvenzionato con un altro provvedimento particolare. Sono ovviamente cifre non alte ma che possono fare gli investimenti che ora non si possono permettere a questi comuni. E poi è anche una modalità, noi si inizia con una cifra che qualcosa fa anche dal punto di vista dello sviluppo, dell'economia, perché poi sono piccoli comuni dove ci sono anche piccole imprese. L'utilizzo da parte dei comuni delle risorse messe a disposizione dalla regione prevede un cronoprogramma con tempi certi per la messa in cantiere delle opere finanziate. C'è uno spettro di possibilità, di intervento molto ampio che permette ai sindaci, permette alle amministrazioni comunali, ai piccoli comuni di scegliere quali sono le priorità, quali sono gli interventi da fare nei propri comuni. Il presidente Rossi è poi tornato a chiedere al governo più investimenti pubblici per ridare impulso all'economia e alle aree interne. Grazie a tutti.